ciao ragazzi ciao ragazze stasera è assaggio di questa bevanda si chiama alla mela e al ginger invece l'altro è al passion fruit invece il milk è bubble ed è inquadrazione su mario milk inquadrazione su mario latte alpino inquadrazione su mario allora io non lo sa che tu guardi io assaggio no 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 i camera meno di solito non assaggiano un tubo però buono è morbido delicato c'è un'aria che tossisce ecco l'aria andiamo qua quale prendiamo pepino io giro questa io stavo prendo quella è assaggio la prima tu perché se muori tu io non muoio ma non è vero bianca bianca bianco bianco tipo di caramelle massa di caramelle è acqua praticamente l'odore di catrame l'odore di catrame ciao ho spoccato tutto non la ricomprerei più ve lo giuro ma cosa fai Bruno? ecco si è oscurato per un attimo comunque io non la comprerei più questa qua la passion fruit non c'è così proviamo l'altra non so se è perché ho il gusto del cioccolato no le pupille gustative questo sta di limone è andato a male no no disgustosa no no giù 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 voto zero sotto zero meno zero sotto lo zero proprio sa di cosa è andata male Marcia ma si sa di limone Marcia almeno fammi ripare la botta con che schifo perché uno che costano 95 centesimi però bocciate e invece il Mirka promossissimo adesso lo aumentiamo promossissimo ma veramente molto promossi si no ma mi sento cose quale è giunto nel proprio nel lavandino ah già il Bruno deve assaggiarlo il camera me la faccio una faccia come per da vomitare bocciate il mio camera ma dove sta inquadrando non le ricompro più questo è buono buono questa ma qual è quella che sta di caso guardami vabbè io le beverò questa sera le beverò allora per il momento è finito la cosa qui e noi ce la mangiamo tutto quello giù 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 se vi è piaciuto il video mi dite like iscrivetevi al canale e attivate la campanella ciao ciao